La pallavolo catanese è tornata in Serie A e i suoi tifosi potranno ammirarla ed emozionarsi alla Pala Catania. A dirlo soddisfatta l'assessore allo sport del Comune di Catania, Valentina Schalfa, commentando l'esito positivo dell'incontro con la messaggeria, la società di volley promossa in A2 e la decisione dell'amministrazione di mettere a disposizione il Pala Catania per consentire gli allenamenti e di disputare le partite interne, superando così anche le difficoltà organizzative per il tappetino da utilizzare nelle gare ufficiali. Siamo molto soddisfatti, ha detto la Schalfa, di aver trovato la soluzione affinché la messaggeria possa giocare le gare casalinghe nel palazzetto principale della città come auspicato da tutti. Abbiamo trovato una soluzione compatibile con le normative comunali. Il Pala Catania sarà dunque la casa della pallavolo di Serie A e continuerà ad essere un punto di riferimento per le altre discipline del mondo sportivo catanese. La soluzione prospettata durante la riunione dall'assessore allo sport trova tra l'altro la condivisione della Lega Italiana Pallavolo che ha evidenziato come l'utilizzo che attuerà Catania sia comune alla stragrande maggioranza delle città in cui militano squadre di Serie A.